UCCIDETELO! Ci vediamo. Li prenderò più tardi. È sfuggita di nuovo. Sì. 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 Finalmente sei arrivato. Cosa è successo? Una piccola complicazione mi ha rallentato. E a te? Sì. Sì. Ecco, amico. Sì. 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 Lupe. Lupe. Vai avanti. No, no, no. Non essere sciocco. Non ti preoccupare. Stiamo arrivando. Molto bene. Allora, pensateci voi. Wow, benvenuto Non abbassare la guardia Non abbassare la guardia Lupin, siamo nei sotterranei del castello E questo posto è anche più spettrale Bene ragazzi, sembra che ora dovrò andare avanti da solo Ci vediamo presto Cosa? Cusico, pensa a Teresa Cosa cerchi di dirmi? Io vengo con te No, la tua avventura nel mondo della malavita è finita Non voglio ingannarti Fuji Occupati della ragazza Bene, perché no? A quanto pare non hai cambiato idea su questo Giuro, non sono qui per giocare Mio padre rischia la vita Tuo padre? Ma che stai dicendo? È Thomas Faust Cosa? Thomas Faust? Se ricordi bene Thomas Faust è un esperto di archeologia dell'occulto E ha anche scoperto la caraffa dell'onore È scomparso da circa sei mesi Che cosa hai detto? Mio padre è stato rapito da qualcuno che vuole disperatamente la caraffa Invio questa lettera a me stesso per precauzione Penso che ci sia qualcosa che non va Spero che sia solo una perdita di tempo Ma se stai leggendo questa lettera Significa che sono stato ucciso o rapito Teresa, mi dispiace tanto Io non voglio spaventarti o farti preoccupare Ma sta molto attento Se dopo la mia scomparsa Qualcuno ti chiederà della caraffa dell'onore Sappi che si tratta della persona che mi ha catturato E non si fermerà davanti a niente per averla Ma la caraffa non ha valore Senza l'oggetto che ho incluso qui Teresa Proteggi questo oggetto in ogni modo Allora dietro a tutto questo c'è Teodoro Probabile Ma ne sarebbe capace Così l'oggetto di cui parla tuo padre È quell'antica mappa Sì è Giù Ah Teodoro come mai ci hai messo tanto? È semplice Non avevo motivo di affrettarlo È di mio padre Ah sì Questi sono i suoi appunti ovviamente È effettuato una ricerca molto complessa Dov'è? Dimmelo Cara Teresa Te lo dirò non appena mi avrai consegnato la chiave del sigillo Dammela subito Ma che diavolo è? Tuo padre deve di certo averla affidata a te Quindi ora la darai a me Immediatamente Teresa non so esattamente cosa stia succedendo Ma scommetto che se gliela consegni Per noi sarà la fine Su Lupin Non ti consiglio di opporre Bello gettino L'hai preso forse in sexy show? Tu? Questo è uno scettro magico creato per il proprietario di questo castello E il suo nome è Taslam Taslam? Salam? Non importa Anch'io ho la mia bacchettona magica Come osi? Ecco che cosa succede a chi si prende gioco di me Teresa Corri Sì Presto Lupin Prendeteli Patrini Pridificati R saved Prendeteli R computed Per me Alli Prendeteli R이었 Per me Cosa structure La Basic Grazie a tutti. 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 Chiedo fin... che... Teodoro... Grazie a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.